Commence Demolition's Maneuver Delta 2 Ma sai qual è? Esatto, è quello che mi rompe le balle Cioè, oltre al fatto che lui è maledettamente tra Erdone e Stronzo Si becca pure la squadra di, sai no, di tipi che sono tutti combatti con lui, no? Cioè, quello era... Perché il fatto è questo Ne avesse avuto uno che veniva a cazzeggiare, per dire O la squadra che si scomponeva Non dico che li avremmo battuti, ma, sai no Ma ce lo giocavamo meglio, invece... Ma quindi non erano insieme questi Stronzi? No Siccome erano insieme No, no Ma erano coordinatissimi, cioè, nel senso... Cioè, non super coordinati, però non sempre ingrumati Secondo me... Secondo me due erano amici e altri no Quindi vuol dire che... Oddio! Però sti qua che arrivino a gruppi di quattro Però mi fa un po' anche sti qua Gesù Sì Guarda, voi immaginate che arriva quel bastardo che ci ha insultato prima Immaginate che era giocata solo No, no, cerchiamo di fare un po' di diplomazia Va l'alla, va l'alla Eh, questo si chiama va l'alla, raga Va l'alla Benvenuti nel barali Così a caso Chi è Colonna? Così 1-1 Repubblica Holy shit! Brother Brother Aspetta, sta usando le mod I have mod I use a mod 1-1-3-8 Chi è già? Eh, è boss! È boss, è boss! Omg No, lui è la Darksaber È altre mod È indietro! Delta ha già passato a Darksaber Erano le mod del vecchio Delta Non so, del 1900 Pasienza Pasienza Ecco, vediamo di finirla Diciamo di andare avanti bene Con questi non insultiamoci Niente Esatto, esattamente No, mi sembra tranquilli Mi sembra tranquilli Appena l'altro ha scritto adori meme Ho già capito Non ci sarà Non ci sarà diplomatia Oddio Gesù Cos'è succede? C'è qui è molto Un Darth Maul Vieni qua Di lato Ragazzi Oh no Eh ma Darth Fener Non sa come usare Darth Fener Però mi è piaciuta la tattica Di cerco Sì, il Fasma spara Sì, il Fasma spara Sì, il Fasma spara Sì, il Fasma non si pede Porco, orco Oh no Ahia Madonna Da solo Darth Vedi che non potevo competere Don Sky Capitombolo Sky Faller Buongiorno Non tutti insieme Adosso a me Comunque sì Avevo capito che Repubblico mando Comunque Il clone Tutto ciò Però dettaglio Il nome di lui Eh ma se io Mo gli dico Sto usando Boss Qui adesso Questo non solo Piangerà E lacrimerà Di gioia Infatti Beh Mi ho fatto Parare con questo Darth Fener Paralizzalo Se lo fai paralizzalo Lando No, non l'ho paralizzato Ciao E sta L'ho paralizzato Forse non l'ho Oh Madonna Ma non muore Non vuole muore Perché lo cambiarono tanto È ancora vivo Ehi Eh la madonna Vabbè ma Vabbè vedi perché Mi devono rimanere in port Cazzo Vabbè ma che sfiga Cavoli però Vabbè vedi Quando tu sei veder Ti ti chiedono giù Come nulla Quando gli altri Sono veder Boh Ancora Pagare di oro Aspetta Riunirsi Dove siete Ok Sono proprio Dentro il Fener Ancora Esci fuori Bro Usci fuori Ma sono fuori Verso Eh aspetta Ti raggiungiamo Proviamoci almeno Eccoci Oh è ancora vivo Non ci credo Non ci credo Non ha capito Un buon azione mai Quattro cold kill me Eh però sei morto Aspetta Vabbè dai Sta scherzando Sta giocando E' contento Fallo felice Dai Vabbè dai No dai ragazzi Non ho cominciato È lui È lui È lui È lui Grigus Non fa l'innovazione Non c'è nulla Non c'è nulla Non c'è nulla Non mi interessa Io sto giocando Quindi Tutto a posto Ah cavoli Dovevamo Metterci d'accordo Per quando paralizzarvi Eh no Perché era per appararmi su Che mi stanno Andando addosso Un po' di persone No No Io non sto facendo lui Sta massacrando Eh vabbè Aspetta che provo a spingere Fasma Perché il punto E' spingere Fasma Guardala che Dattica Vai 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 Eh no Aspetta un attimo Che Oh no Surprise Motherfucker Vabbè Visto Delle corna Di tiro da un approzzo Ciao Fasma Ma lo sapevo Che doveva arrivare Darth Fener da dietro Cazzo Guardalo Che maledetto Anche Kylo Ren Ma che cazzo Che pale Oh proprio per Per ammazzare Per ammazzare Ma cosa fa il nostro quarto membro Valhalla Cosa fai Ci chiami merda Perché attacchiamo Darth Fener E poi prendi Chewbacca E ti metti a pascolare A pascolare Guarda Che cazzo è No Che culo rotto Come bottiglia Ammazzò Ma veramente è culo rotto Culo rotto Darth Fener Ma abbiamo fatto uno 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 Vabbè Quella ha fatto un po' più Kill del previsto Eh Sì raga Stiamo 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 perdendo Eh Dobbiamo gestirla meglio Cosa fa Chewbacca Che io sono bloccato Con questo Ma perché Vedermi Ma dai Come ho fatto a schivarmi La cosa Dai Per favore Lento No Dietro Dietro Non l'avevo visti Non l'avevo visti Vai 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 Guarda Questo canto Di felore Tattico Che se ne sta qua Non far niente Fai qualcosa Ahia No Mi ha strozzato Mi sta strozzando No no Però vedi che cavolo Io lo spingo E non prendo Cioè No E non devi spingere Con uno strozzare Mi coltino Capitombola alle spalle Ti chiamo Elegante alle spalle Capitombolerò Capitombola bene Chi capitombola ultimo Cerco di apri una mano Ecco L'ho ammazzato Stato Ehi Ciao Ti tombolo io Mi sa Oh Che capitombola No Lando Lando Metti di d'accordo Con me Quando li Li Robi Perché io la potevo farli cadere tutti e tre Se mi avessi detto E no Stavo in una pezzata condizione Ti ho salvato a culo Capito Per tipo T'ho fatta Non mi hai dato la kill di Darth Maul Eh Perché non mi dai la kill di Darth Maul Eh Spara Fasma Lando Non lo vedo Lascia perdere È là dietro la colonia Madonna che mira Occhio che c'è il Darth Spanner Ma che palle Oh ma si è sempre che parano Madonna che onda energetica Più in alto di tutti Mi ho voluto in un momento di lanci C'è una greve Odio Ah no Dimmi quando lanciare le Ce l'ho eh Eh stavo per dirti Occhio a quel Darth Maul Eh Che palle madonna molto Eh devi stare Stato attento Sti qua sono veramente là Che code Non fa noto che aspettare Perché guarda Il Darth Maul è nascosto là dietro là Però perché quando invece spingo Io non ti prendo mai Ma che culo roto Ma si salva per se Ma quanto è forte Quella Quella plasma Attenzione Nel coso Nel Posso lanciare la cosa elettrica Dimmi quando Eh aspetta 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 Dietro dietro Madonna Ah stagino non hai finto nessuno E' mo' il bastardo E' mo' il finto Siamo i più indietro Siamo i più indietro Siamo i più indietro Che c'è Che ti parti Che è un cos'è Suo Che ho lanciato Paralizzo adesso Paralizzo adesso Aspetta non posso Adesso si E adesso dov'è E' qui davanti a te Vagaccia Ok Bravo 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 Aspetta che recupero la stamina E' pasma Sì adesso la ingratulio pasma Non fare cattiveria Però sono solo Ah pensavo Dicesi sono Yansou No non sono solo Sono solo per Dallora Eh del caso di pasma Vola Vola No ma sto qua è una cazzo di tartaruga Dimmi quando colpire Ok Colpisce Oh bravo Bello Ok colpito Occhio Occhio State indietro State indietro Che Che vi piglia lui Ah A K Oh Hola Oh bagno Bello Bello Il problema O almeno parzialmente Con l'unico Ancora Scusate Puglio Loi E' odise No No Non ho Fate Sì Ancora Cosa Questa Che E' Io Faccio Complimenti Fasma che fuori vuole detto Oddio Gesù Parà 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 Indietreggia è pararex Mettiti in posizione difensiva Per distrarli una fine Cavoli Parano tutti Bella bella questa Ho aspettato che passasse Aspetta che io gli faccio il mentale trucco Eh no, ho messo best buyout team Ma l'ho notato Sto arrivando, sto arrivando Ciao v'alà No Sto cornutaccio, bastardo Sta arrivando Gribus, ho detto di voi, raga Che cazzo bella Che bello pure Ora non arriva più Un palpa, bellissimo palpa Ma io adoro i palpa Dove c'è? Sto morendo Sto andando Sto andando, ti salverò Yes Aha, mi sono salvato, via Mi ero salvato In effetti ho durato poco lo salvataggio Aspetta che il palpa Ciao palpa Ah ma dove l'ho mandato? Vivo No ma dai E' sovravvissuto ma che pulaccio Occhio che c'è il Gribus là E' sovvissuto ma che c'è il Gribus Adesso non puoi fare più un cazzo E' però palpa Maledetto palpa Volatene giù Joke aiuto Aiuto Eh ma Panner non vola Dovevi far volare le Gribus Occhio Ok Aspetta Il problema è il Gribus Ok a dartmole A finge a dartmole Guarda adesso in G3 Deci fa volare Dove è andato Gribus A Fener non poto cadere io giù Ah ok sì Me l'avevo perso Ah ce l'ho fatto Sbagliaccio Sbagliaccio Ah cavoli mi ha preso Guarda che si incazza No ma ha ragione Non stanno giocando bene la sua squadra No ma come ha ragione Dovemmo batterli Da che parte stai Guarda io sono Io sono sportiveggiante Sono uno sportivo Cioè sta giocando bene lui Allora io sono sportivo Come la morte nera Quando ho un vantaggio L'ho presso Finché faccio spavere Il postone del vantaggio Sì però c'è un fatto Questa Fasma Dove volare No io sono sportiveggiante Sono sportivo Però devo dire una cosa Se vuoi giocare bene Giocare bene Infatti sta veramente Ah vabbè ma è giusto Essere sì Cioè Oddio c'è un Fasma È un gioco Quindi ci sta divertendo Ma Fasma è morto o no? No è ancora di uno È volata via No no è morto Eh infatti Nel senso ci è messo un po' Eh raga sono tutti a me Probabilmente è rimasta tipo Ti ho salvato Ti ho salvato Vabbè tu sei andato a suicidio però eh No era tutta una tattica Un'elaborator rouge Non sono mai stato in pericolo Aiuto Molto maledetto Dai mi hai corrido Ah ti dimentico Eh ma poca vita E poca instamina anche E poi lui Fa tutte le tattiche Oh cazzo Sì guarda come l'ho spinto via Aiuto No 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 Dai sono le ultime due kill raga Rai di serrati No che è successo Non ho capito Hai Lorraine L'ho visto io Indietro hai già Luke che ti sta girando alle spalle Vieni da me Vieni da me Che teniamo una linea difensiva Sì Darth Final che scende giù E la vinco così Yeay Dai vincere Ma già che ci sei Quindi già che c'ero Mamma mia Che bella Questo giro lo scrivo anche io Perché ci sta Mamma mia Che dura Agognata Mamma mia Però è stato divertente Questo vedi Sì esatto Ma è di sicuro meglio Di quelle che il pubblico Non ha visto per fortuna Allora No Beh beh Ma se abbiamo a che fare Con gente che Magari gioca bene Sono molto aggressivi Per carità Però se iniziano a insultare A offendere Non è più un gioco Non è neanche più divertente Non scopo Io queste cose non le capisco No perché Quello Secondo me Contro l'Italia Perché poi Si concentra su di me Perché lo Delta 28 Delita Capito Dei poveri frustrati No 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 Sai perché Perché Qui decisamente Con te capitolo Sì Almeno perché Io ho anche messo i nuovi giocatori Ma chi è Alex Alex 07 Lex Da Non c'è più 1-1-3-8 No Era simpatico Era quello che sta giocando Ma se me si è scocciato Che ha detto E che caos Sto facendo solo io Da anni E effettivamente ha giocato bene lui Però che palle Ma c'è almeno Vediamo i livelli di questi qua Vedo un 70 Ok Troppi basse Ho paura che li massacriano Non so perché Ho questa sensazione No non dire Non dire queste cose Non dire queste cose Perché poi ci becchiamo Adesso vedi Non so Let's Dargoz Al 940 Tipo con Non lo so Con Ian Solo Che butta una riconita Sì sì Saranno Omega fotonicamente Potenti e pericolosi Ho capito Ok C'è solo Snooze Amen Che è alto di me Dovrei riuscire C'è capitolo Alla riscossa Alla La palla Come si impara Però la palla La faccio io Solitamente Però Stavolta Te la lascio Oh C'è la Nemesis Un'altra palla Allora Sta divertente E io chi attacco Fra i due A bene Il gioco deve farlo Allora 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 Da capito Un buonazione Mai Buongiorno 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 Bellissimo Tornando Moriremo male Tornando Ma Sta sensazione Che sia Troppo Piero Ero No Lollo 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 Ma Attenzione Raga Che Non li Vedo Arrivare Non mi piace Ma Mi piace Ma Com'è No E' Io Faccio La Sentinella Ok Arrivano E' No Mordo la palla no povera è morto qualcun'altro e moll vattene via ecco a lei mi ha fatto il lavaggio del cervello sono diventato scemo si guarda di tutti e quattro no la palla è 60 no rex ti odio rex ti odio cosa hai fatto no va bene siamo morti per colpa tua rex sei sei colpevole delle tue disgrazie non avevo neanche visto perché mi hai rubato perché hai fermato tutto ma non volevo cosa hai fatto guarda appena ho visto quel fulmine partire ti ho maledetto in tutti i modi della mia mente sono partiti mille insulti non sapevo quale scegliere potevo fare un altro è stato registrato è stato stato registrato di fa 4 kill davanti alla piccola camera lo potevo farle ma con qualche capicciambolo è stato divertentissimo perché mette lui stava per buttare tutte e quattro giù e non è facile perché devi spingere con delicatezza diciamo ma è stato bellissimo mentre vi era tutto pronto a motilano carterete arriva fulmini ma è bello che è stata una cosa più forte io ho visto quattro lì ho detto cacchio bene dai gli do una mano non avevo neanche visto no 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 è delicato gli vado a dare una bella mano no e lui ha deciso all'ultimo di fare l'ottomento l'attento è detto ah ragazzi sta scappando eee no ho fatto una figura di me ho fatto una figua di me raga lo ammetto è scappando anche me ha già usato la guarda di palla ah ma il tipo la usa la palla ma quindi il loro giocatore più forte è una palla una palla però la raga la stiamo perdendo eh cioè il giocatore è una palla colpa mia si è colpa tua perché stavo veramente per per dare sai no l'impatto dai almeno almeno ingrumiamoci perché vedo il capitombolo proprio che tu che prendi capitombolo no aspetta che capitombolato io io capitombolo no è delta anche capitombolo si si è vero delta capitombola ma non di nome delta non vuole essere da me ne sono di fatto voglio fare concorrenza capito oh yoda dove è il baccarotto nano dove è andato sono tutti ingrumati qua affrontato ma almeno prima quando vorrei fare una cosa lo stavo facendo molto prima e vabbè ma non è fattibile la cosa come è che mi sta uccidendo ogni volta questo l'ex ma sto portando in giro iode mi sto stavo girando con lo strutto di dart venere e c'era ioda che era lì la mannina che lo dice dove lo porto questo io da voi mi sto girando in giro ma è stato bellissimo che lui si è scusato di avermi ucciso quando sono apparso è stato bellissimo non credevo neanche se fosse possibile io che potessi portarti la palmi è antipatica ma era bellissimo perché volevo pararti da anachim ragazzi quanto cosa ho scritto eh aspetta un momento il fatto è che non volevo mollare iode progettivo parerò e continuerò per il mio solito portato di più che non potessi portarti lì no 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 perchè tenevo ferma alla stretta vedi maledetta ah eccoli qua i nostri amici nooo la conutazione mai madonna che è successo che è successo sento un batto bruttissimo ma ma sta arrivando la nostra parte verso di noi è rey dal futuro sta arrivando rey dal futuro ah eccolo la guardo che vanno no ho sbagliato scusci a salve rey così è rey rey dal futuro da episodio 7 è arrivata fin qui rey 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 dal futuro sta arrivando skywalker quindi dovrebbe arrivare quale quale dei vari rey yuk yuk è skywalker figlio mi sa skywalker senior no è skywalker senior no skywalker è il mio non so dove sta yuk è rey oh ciao yuk wana qui sento sei tuo figlio non lo meno tu la cassa dai sembra aspettate che adesso gli risponderò la palla si è arrabbiata contro di me la palla la skywalker senior vieni qua vieni a me sento un baccaroppo nooo ma che è successo ahahah eh il mio lancio di spada laser oddio non ho capito a nulla che è successo dimmi che questa non ha non mi son fatto perdonare per quella di prima dai si dai 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 ma che sia un sfide cazzo ahahah e tu che scrivi what odio mi chubetta molestissimo forse include dai vai ci capisce un bel ti ho tirato dal malocchio io ahia ho capito malissimo non posso fare altro un momento di tirare il malocchio ma ha fatto leggermente bene ecco il primo capitombolo della giornata non è il primo è molto di più eh vabbè questa partita è il primo come effettivamente è una bella giornata è una bella partita come dire duico sono nel corridoio della morte con con gli uomini che portano la morte vada falli uscire fuori falli uscire fuori no no sono già fuori portali qua allora eh ma come sai che parata non ha funzionato il tuo trucco a me ora e mi ho dato così funzioni si fa ahahah ah vedo che lo vuoi raggiungere ci duelliamo io e te dove vai anakin anakin devi duellare con me e non darmi le spalle mannaggia ma perché non lo finisci rex non è baciuto perché io speravo di farlo cadere invece no eccolo qua ti ha chiamato l'user che era riferita a te no 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 a me mi ha preso in simpatia a griffus ma io a me è venuto in simpatia tranne chi è un razzista ma io ci ti penso a una nel petto che c'è? e praticamente ero lì sul bordo ho visto qualcuno che arrivava e ho detto aspetta che era una cosa bassa sono la palla no invece la yoda come sbucca se lo fulmiate e vola che dico ah vabbè ma lui oppure nel luglio fulmino tu ti fulmino in un fulmine ragazzi ci serve uno che facciamo un nuovo ciubecta? si ciubecta è quello che rompe ahia ho un pezzo d'artiglieria veramente? eh di no dammi un proiettile da 88 mm ma cosi impara no 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 che cagli sta iettatura? ietturità e griffus eh eh si eh vabbè ma perchè c'è già sul ciubecto illegale allo schifo no ma infatti è troppo pericoloso no no che hai vuto con me no ma sei morto no 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 ma hai visto che c'è giubecta? no ma hai visto che c'è giubecta? no, aspetta che li devo salutare si si è giubecta è pericoloso volevo volevo mandarti di giubecta di sotto per farti compagnia invece niente ma io dovevo andare nel tutto ciò ah di qua ok no palla non morire come fatemelo morire? Che è successo? Palla, palla, non palla. Ah, perché palla, ma sta non messa a moda. Hai visto che mi ha scritto quella là, ciao papà, e io ciao figlio. Perché stiamo partendo tutti e due giù. Ma quello si diverte. No, I can't fly. E questo qua lo sta prendendo con filosofia, mi piace. Sì, ma lui sì, t'ho detto. Guarda che sto scritto. Ti ha sembramento, c'è qua. C'è un insolito assembramento di navi della federazione, R4. Ma no, ma no, il muro, sono stato messo al muro. No, io ti salverò. No, quello va bene con simpatia, come si chiama, quello che fa il yuk. E lui come è simpatico, però Chewbacca cazzo. C'è veramente, è giusto. Eh, guardalo, 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 che... E' quello con Ray, è quello che usa Ray, che cade in continuazione, aspetta. Guarda lì che ne butto due, due. Sì, io l'ho vinta. Ok, aspetta che mi raggiungo. Che ha detto, d'altro vede, spero che cosa che sta più tutte le danni. No, spero che ti buchi il dito alle tre di mattina, così svegli tutta la tua famiglia di notte. No, no. Potrei darti punti per creatività nell'insulto, quello di sì. Perfetto. Bene, raga, io qua la stop qui. Ma poi perché... Ma poi perché... Ah no, aspetta, non era tipo... Tipo, ti pesti un dito. A pitombolo. Così mi pesto, mi pesto un dito da solo. Bene, raga, io qua vi saluto. Bella registrazione, quindi il 38 passo e chiudo. Bene, raga. Bene, raga.